Ciao sono Daniele per gli amici Subri, oggi vi farò scoprire come liberarvi di tutta l'attrezzatura usata sportiva che avete in cantina oppure in garage tramite Decathlon Second Hand. Ma prima ricordatevi di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i prossimi video che usciranno. Già è quasi ora di estate quindi c'è chi va in palestra e c'è anche chi vuole ritagliarsi un'oretta al giorno per allenarsi in casa. Ovviamente c'è chi ricercherà gli oggetti su Subit oppure su Facebook ma chi si rivolgerà a un negozio specializzato come Decathlon che mette a disposizione la sua parte di Second Hand per dare proprio la possibilità a tutti gli utenti che volessero vendere degli oggetti di farsi fuori tutta l'attrezzatura sportiva che non usano più. Quindi vediamo come funziona. Come prima cosa bisogna andare sul sito Second Hand di Decathlon e registrarsi sulla piattaforma cliccando in alto sulla destra dove c'è scritto il mio account per poi accedere con email o telefono oppure Google o ID Apple se si è già in possesso di un account oppure cliccando su crea un account Decathlon e registrarsi con uno dei modi prima citati se non si è in possesso di un account. Io per praticità mi registro oppure mi scrivo con Gmail di modo tale che ho sempre la mail a portata di mano per eventuali comunicazioni della piattaforma. Una volta aver registrato l'account per iniziare a vendere basterà cliccare in alto sulla destra dove c'è scritto vendi un prodotto e la prima cosa che ci verrà chiesta è quella di inserire la località. Dopodiché ci saranno tutta una serie di articoli che si potranno vendere suddivisi per genere ma senza spulciare tutto l'elenco basterà cliccare sulla lente di ingrandimento e ricercare un determinato sport. Una volta scelto lo sport si aprirà un sottomenu in cui si potrà scegliere che cosa di preciso voler vendere legato a quello sport. Ovviamente i prodotti varieranno in base alla categoria di sport scelto. Se ad esempio ci sarà la necessità di inserire un oggetto nella categoria bici da corsa ci saranno a disposizione gli accessori, le scarpe, l'abbigliamento, i pezzi di ricambio di una bici oppure la vera e propria bici da corsa. Se invece si avrà la necessità di inserire un oggetto da palestra nella categoria bodybuilding ci sarà la sottocategoria equipaggiamenti, l'abbigliamento, i bilancieri con le barre ed i dischi e anche i pesi ma anche apparecchi per addominali ed infine la barra di trazione con gli accessori. Le categorie sono veramente tante ed ogni categoria potrà avere delle piccole differenze al momento dell'inserimento dell'annuncio come ad esempio nella categoria pesi bisognerà proprio indicare il peso dell'attrezzo oppure nella categoria vestiario bisognerà indicare la taglia mentre nella categoria bici ad esempio bisognerà indicare la taglia della bici. Io vi porterò l'esempio di come si vende una bici da corsa entrando quindi nella sezione dedicata all'inizio verrà richiesto di inserire il nome del prodotto e come sottolinea anche il sito è inutile specificare vendo oppure vendita quello è scontato bisognerà mettere il nome la marca il modello e qualche caratteristica del prodotto ma comunque bisognerà fare un titolo conciso preciso e chiaro per l'acquirente. Una volta inserito il titolo ci sarà la richiesta di inserire la marca che se non compare tra l'elenco delle marche messe a disposizione da Decathlon sarà comunque presa in considerazione e basterà quindi scriverla direttamente. Successivamente bisognerà scegliere la taglia della bici con la possibilità di consultare anche la guida alle taglie secondo me molto utile perché ovviamente uno potrebbe non sapere qual è la taglia della propria bici la guida alle taglie divide il tutto per altezza quindi molto semplice. Successivamente bisognerà inserire il genere scegliendo quindi se si tratta di un oggetto per uomo o donna oppure unisexo magari per bambino o bambina. Nel caso invece della scelta di colore si potranno scegliere più colori insieme per venire incontro a tutti quegli oggetti che non sono monocolore. Molto importante successivamente specificare l'anno di acquisto che è un campo obbligatorio e si può scegliere a ritroso fino al 1990. Verrà poi richiesto di inserire lo stato dell'articolo e io ogni volta che viene questo momento nell'inserzione di un oggetto ripeto che è sempre molto importante per l'acquirente questo punto perché si sta acquistando un oggetto che non si vede fisicamente di persona perlomeno all'inizio quindi il venditore deve essere il più oggettivo possibile. Il sito fa scegliere tra uno stato eccellente oppure buono ma anche accettabile e deteriorato. Per lo stato eccellente si intende un oggetto magari usato un paio di volte poi riposto in garage per buono stato invece si tratta di un oggetto anche usato ma comunque senza difetti estetici. Per buono stato invece si intende un oggetto che può avere dei difetti estetici ma comunque funzionante quindi magari una panca per addominali leggermente strappata sulla pelle o comunque sulla seduta mentre per un oggetto deteriorato possiamo intendere un oggetto anche non funzionante o comunque con gravi difetti estetici. Nel momento in cui bisognerà inserire il prezzo si dovrà inserire il prezzo da nuovo e il prezzo che si vuole realizzare sull'usato. Questa dicitura del prezzo è la prima volta che la vedo messa in atto e devo dire che ne sono rimasto molto contento perché in effetti potrebbe essere una buona soluzione mettere il prezzo da nuovo e il prezzo ovviamente che si vuole realizzare sull'usato di modo tale che ovviamente l'acquirente si renda conto di quanto costava l'oggetto nuovo e quanto il venditore vuole realizzare per l'oggetto usato. Ovviamente il venditore qua deve essere molto onesto e mettere il reale prezzo non pomparlo anche perché poi comunque un acquirente attento se ne accorgerebbe. Molto importante è anche l'inserimento della descrizione che verrà letta da tutti gli acquirenti più attenti e a caccia di dettagli infatti il sito stesso consiglia di mettere un link diretto dell'articolo se ancora presente sul sito Decathlon e soprattutto di specificare se il prezzo è negoziabile o meno. Sarà necessario infine aggiungere le foto qua se ne possono aggiungere massimo 5 e come consiglio io è sempre bene sfruttare tutte le foto possibili che raffigurino l'oggetto da più angolazioni possibili. Una volta inserite tutte le foto cliccando in basso sulla destra dove c'è scritto successivo ci sarà riepilogo generale del prodotto e si avrà la possibilità di aggiungere un nuovo prodotto oppure di proseguire. Ora è arrivato il momento di vendere l'oggetto usato tramite Decathlon e si può fare usufruendo di un servizio molto interessante che si chiama Trocatlon ovvero un vero e proprio evento di vendita di oggetti usati. Per venderlo tramite il servizio Trocatlon bisognerà quindi scegliere di partecipare ad un evento tra quelli proposti facendo attenzione se l'evento è in corso oppure deve ancora iniziare. Per poter partecipare basterà cliccare sull'apposito tasto con scritto partecipo ed infine validare la partecipazione. Se l'evento quindi è già in corso si potrà portare direttamente l'oggetto in store mentre se l'evento dovrà ancora iniziare bisognerà attendere la data di inizio evento. Una volta arrivati presso lo store un addetto ci seguirà per un eventuale ritocco del prezzo e si accerterà che l'annuncio sia stato scritto in modo corretto. Dopodiché si depositerà l'oggetto presso Decathlon che si impegnerà alla vendita dello stesso fino alla data prestabilita. Se l'oggetto verrà venduto nel tempo prestabilito Decathlon avviserà il venditore tramite mail che potrà quindi recarsi presso lo store e ritirare un buono pari al valore dell'oggetto venduto. Infatti Decathlon non avrà nessuna commissione di vendita sull'oggetto. Se invece l'oggetto non verrà venduto il tempo prestabilito il venditore avrà tempo massimo sette giorni dopo la fine dell'evento per andare a ritirare l'oggetto in venduto. Visionare gli oggetti usati è molto semplice. Nella home del sito una volta fatto l'accesso ci sarà la possibilità di visionare tutti i prodotti in vendita in quel momento nello store più vicino alla posizione dell'acquirente e sarà segnalato se si tratterà di oggetti venduti da terzi tramite Decathlon oppure prodotti ricondizionati e venduti da Decathlon stessa. Questi eventi però possono essere visionati anche prima di mettere l'oggetto in vendita. Infatti c'è una sezione apposita del sito chiamata eventi in alto sulla destra che elencherà tutti gli eventi presenti nella zona specificando anche se sono in corso oppure se devono ancora iniziare. Essendo eventi tematici tramite il sito si potrà capire quale tipo di oggettistica si potrà trovare in vendita oppure si potrà vendere. All'interno dell'evento ci saranno le istruzioni per i venditori con la sezione che spiega quando si potrà effettuare il predeposito, il deposito vero e proprio e quanto tempo c'è per vendere l'oggetto con anche l'eventuale data di ritiro se l'oggetto andasse in venduto. C'è però un'opportunità secondo me molto bella che Decathlon mette a disposizione di acquirenti e venditori ovvero quella di proporre direttamente un evento. Nel menu degli eventi al fondo c'è proprio il tasto apposito da cliccare per proporre un evento e si potrà specificare se si vorrà vendere oppure acquistare un determinato oggetto per poi scegliere che oggetto usato si vorrebbe acquistare oppure vendere e dentro quanto tempo l'evento dovrebbe essere realizzato da un minimo di un mese a un massimo di un anno ed in quale giorno si preferisce partecipare all'evento. Verrà ovviamente anche richiesta la località nel quale l'evento si dovrebbe svolgere e si potrà dare l'autorizzazione ad Decathlon di avvisare al momento della creazione dell'evento. Questo secondo me è un ottimo servizio ma non adatto a tutti infatti il venditore dovrà essere consapevole che riceverà un buono e non i contanti ma allo stesso tempo si eviterà tutta la trafila di dover mettere in vendita l'oggetto su più piattaforme ed anche ovviamente tutta la trafila di un'eventuale spedizione, consegna, ricezione dei soldi magari anche a distanza e ovviamente la cosa più importante è che si leverà dalle scatole l'oggetto pressoché subito consegnandolo infatti ad Decathlon. Se invece il venditore preferisse ricevere dei soldi in contanti per poi spenderli in qualsiasi altra cosa a questo punto consiglio l'inserimento dell'annuncio su Facebook subito ebay o qualsiasi altro tipo di sito permetta la rivendita dell'oggetto usato. Io vi ringrazio di essere arrivati fino a qua e spero di esservi stato utile magari avervi risolto un problema nel quale eravate incappati. Per qualsiasi altro dubbio domanda la sezione commenti è sempre aperta perché ricordatevi non ci sono domande stupide ma solo risposte non pertinenti. Ehi non scappare perché il video non è finito qua qui a lato troverai una playlist che racchiude tutti i video inerenti all'argomento appena trattato ed un video consigliato direttamente da YouTube per te ma non dimenticare che in descrizione ci sono anche tutti i link ai miei social network. Ora il video è veramente finito il prossimo appuntamento lunedì alle 14.